ed eccoci in studio con Franz appunto di Sherwood Photo il team che come ogni anno regala Sherwood Immagini perché a me sta parola mi esce malissimo e suona proprio tremenda e questo mi piace questa cosa l'abbiamo pensata tutti quanti insieme perché in fondo il lavoro vostro non viene poi mostrato in questo l'occasione delle dirette invece è un gran peccato qui ci andiamo a vedere le immagini di ieri e le commentiamo insieme Franz magari dando anche delle indicazioni dal punto di vista tecnico così impariamo tutti delle cose ma semplicemente naturalmente e poi insomma anche facciamo un po' vedere quello che è successo che è anche l'obiettivo di questa rubrica Franz guardiamo la prima foto ritrae lo stato sociale che riguarda il soundcheck degli amari è una foto è successo questo è successo ieri al tramonto prima che i cancelli si aprissero è stato un vero momento di musica questo potrebbe essere la copertina della giornata è anche molto Jim Morrison questo prima che i cancelli si aprissero detto a Franz in questo momento non sappiamo che i cancelli si dovevano aprire questo lo lasciamo immaginare a chi ci ascolta e a chi ci vede dai guardiamoci la seconda facciamo solo un po' questa è l'entrata naturalmente così come poi anche la terza è l'immagine di apertura dei cancelli quando la folla che era fuori in strada si è riversata all'interno di Sherpa c'era tanta gente fuori ad aspettare questa cosa mi ha colpito perché insomma si sapeva il concetto era anche l'entrata a un euro e qua lo spazio è grande c'era tanta gente già prestissimo che aspettava appunto di entrare guardiamo le prossime e poi dopo magari citaci anche chi sono chi ha fatto le foto eccetera anche un po' spiegaci magari come siete organizzati per il lavoro e così via questa terza foto ritrae sempre la prima il primo ingresso delle persone allo Sherwood Festival del 2013 e si vede anche sulla destra l'autrice della foto precedente che era Martina Manganello benissimo ecco così cominciamo anche a conoscere chi fa le immagini andiamo a vedere le altre sono una decina se non sbaglio le guardiamo un po' un po' velocemente questo è invece appunto l'allestimento del vostro spazio questo è stato l'ultimo allestimento del nostro spazio quest'anno c'è lo spazio fotografi allo Sherwood Festival era ora perché l'anno scorso eravate confinati qua e sgomitando spesso ci si scontrava l'un l'altro questo invece è il concerto adesso è l'inizio dei live questi qua erano gli amari questa è una splendida foto è veramente l'atto del suonare mentre c'è il Darielling che è un tipo particolare di suonare lo strumento è la voce di Dariella di Dariella la prossima questo è il pubblico il pubblico ieri era veramente scalmanato c'è stata una grossa affluenza lo Sherwood Festival e si è vista ballavano tutti era veramente molto concitato l'ambiente e era bello riprenderlo andiamo alla foto successiva questo invece è stato un attimo sempre subito dopo l'apertura dei cancelli nel second stage una bambina che ha incominciato a giocare sul tavolato ci ha regalato questo splendido scatto bellissimo questo scatto come si chiama la nostra rubrica dovevo anche organizzare una sigla questa rubrica si chiama Hot Shot proprio perché sono gli scatti caldi quelli proprio freschi di giornata dell'attimo prima questo è sempre il concerto questo è sempre il concerto è lo splendido live dello stato sociale veramente sono stati epici sì sì una gran serata davvero dicevamo abbiamo visto anche nel diario c'è un'altra appunto che mi ha colpito molto così anche diamo anche onore a ma chi vabbè ci arriviamo fra un attimo qui è sempre il pubblico come dicevo prima era veramente caldo quello è un cembalo tutti danzavano quelli sono dei bellissimi tamburelli sì sì perché un membro dello stato sociale era sceso in mezzo al pubblico da qua appunto capivo cose ma non tutto un giovane papa che baciava la terra abbiamo anche una semi divinità che scende dal palco appunto per andare verso terra dotata di cembalo cose che accadono allo Charlotte Festival esatto questa è un'immagine molto bella perché c'è sia uno dei ragazzi del team appunto Sherwood Photo e poi c'è naturalmente la nostra Angela una delle nostre cameraman perché noi abbiamo i cameraman praticamente la maggioranza sono ragazze però ci piace chiamarli cameraman lo stesso perché appunto vabbè funziona così ed è il lavoro appunto che si è visto anche fare sui nostri schermi che ha raccontato insomma il concerto la foto è veramente bella così come questa questi sono attimi di vero amore vedi la passione nella musica che si trasmette anche nelle azioni del cantante e del chitarrista l'abbraccio sociale l'abbraccio sociale ma guarda la sintesi di Momo è sempre è sempre perfetta davvero direi assoluta c'era la foto c'era la sintesi questo è uno dei momenti in cui i ragazzi che lavorano alla sicurezza sotto il palco esultano quando i cantanti prendono iniziative di questo tipo per esempio vedremo che è peggio chiedeva la restituzione dei soldi per il disco perché dopo 16 concerti visti erano ormai stremati ma divertiti ne fanno tanti davvero di concerti anche questa è una gran bella una gran bella immagine davvero questa ed è quella diciamo lascia pochi commenti perché si spiega da sola cioè è la luce durante il live è il motivo per cui è bello essere in prima fila vedi i tuoi idoli quando sono veramente li puoi idolatrare c'è la luce che gli viene dietro come se fossero dei veri dei guarda come si entusiasma quando parla di fotografia questo ragazzo questa è l'immagine conclusiva però è anche vero che appunto è tanto facile caro Momo per i nostri amici fotografi fare belle foto quando sono i concerti vorremmo vedere per esempio domani visto che questa è una serata in cui c'è un concerto sicuramente fra poco appunto saranno loro a sedersi qua e a parlare del loro tour ma appunto ci saranno anche altre iniziative altre cose di cui parliamo dopo e quindi vediamo come sapete raccontarle un grazie a Franz naturalmente io e Momo lasciamo lo spazio ad Alberto perché tra poco appunto è il momento dell'intervista in diretta quindi la clip e noi noi siamo sempre qui servo.it la diretta non perdetela se ci seguite in streaming e vedete se siete qua con noi beh noi siamo contenti desfruta tu festival grazie a tutti